Ispirandosi all'affresco forse più famoso di Michelangelo, la creazione di Adamo, capolavoro conservato a Roma nella Cappella Sistina, TV Boy ci racconta l'attesa di raggiungere i desideri al giorno d'oggi, un uomo che attende i pacchi degli acquisti effettuati online. Adamo, nella versione originale, tende il suo braccio verso l'eterno che si avvicina a lui, mai toccandolo. La scena è traslata all'attualità con l'oramai sempre più preponderante modalità di acquisto tramite internet e con le velocissime consegne a domicilio che hanno rivoluzionato il mondo dello shopping. Una modalità che ha visto un'impennata nel 2020 anche per via delle restrizioni da Covid-19 e che, a pochi giorni di distanza dal Black Friday, fotografa la realtà moderna. Adamo è sospeso in un trepidante momento di attesa, non più per toccare l'eterno, ma per ricevere il tanto bramato pacco e la spedizione ordinata online in pochi clic. Il Corriere è una divinità che non può fare altro che esaudire i desideri del giovane, senza nemmeno più i vestiti, ma con tablet e smartphone sempre a portata di mano.